ciao a tutti oggi prepareremo la panna cotta con salsa di fragole il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa ingredienti sono per la panna cotta panna fresca zucchero semolato vanillina e fogli di colla di pesce per la salsa alle fragole fragole fesche lavate tagliate a pezzetti zucchero semolato e il succo di mezzo limone andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna fresca lo zucchero semolato e la vanillina e azioniamo il bimbi per 7 minuti 80 gradi velocità 4 adesso aggiungeremo i fogli di colla di pesce che abbiamo ammollato in acqua fredda ristrizziamo bene facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3 composto è pronto trasferiamolo in degli stampi in silicone una volta riempiti gli stampi in silicone andremo a posizionarli in frigo per almeno 4 ore nel frattempo iniziamo a preparare la salsa di fragole mettiamo all'interno del boccale le fragole lo zucchero e il succo di mezzo limone e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5 finiamo sul fondo del boccale con la spatola adesso azioniamo di nuovo il bimbi per altri 10 secondi a velocità 7 finiamo di nuovo sul fondo del boccale a questo punto facciamo cuocere per 7 minuti 80 gradi velocità 3 la salsa è cotta trasferiamola in un contenitore e posizioniamola in frigo sino all'uso prima di posizionarla in frigo lasciamola raffreddare a temperatura ambiente la panna cotta è pronta rimuoviamola dagli stampi e serviamola con la salsa di fragole panna cotta con salsa di fragole grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.